Flaidera sfrutta Resource, un processo di pulizia innovativo per truccioli di legno riciclato, allo scopo di ottimizzare la riciclabilità dei suoi prodotti dall'approvvigionamento al prodotto finito. Grazie all'uso coerente di legno di scarto non trattato, appartenente ai massimi gradi di purezza, e a un sistema di separazione delle impurità, affidabile e unico nel suo genere, realizziamo pannelli trucciolari della massima qualità, in modo più sostenibile che mai. Flaidera acquista il legno riciclato da fornitori regionali e che provengono dalle stesse zone dei suoi siti produttivi. Questo legno viene consegnato già prepulito e, all'inizio del processo di pulizia, viene frazionato in base alle dimensioni. I truccioli più grossi, così ricavati, vengono lavorati per essere trasformati in un materiale di alta qualità, mediante un sofisticato processo denominato a cascata. Nella fase successiva vengono espulsi i metalli magnetici, i cosiddetti metalli FE o metalli ferrosi. A tal fine il materiale viene condotto su un magnete che attrae le impurità, eliminandole dal materasso che si sta formando. In quella successiva vengono poi espulsi i metalli non magnetici, i cosiddetti metalli NE o metalli non ferrosi. A tal fine il materiale viene condotto su un separatore di correnti parassite, che genera un campo elettromagnetico in grado di respingere le impurità, eliminandole dal flusso produttivo. I materiali pesanti, che finora non sono stati riconosciuti, verranno espulsi nella fase successiva. A tale scopo viene impiegato un selezionatore a raggi X che analizza costantemente l'intero processo industriale. Nel momento in cui il sistema riconosce un'impurità, questa viene separata tramite un soffio d'aria preciso. Nell'ultima fase vengono espulse le particelle di plastica, di MDF, nonché le particelle metalliche rimanenti. A tal fine un selezionatore ottico, dotato di un algoritmo di riconoscimento intelligente, analizza costantemente l'intero nastro trasportatore. Nel momento in cui il sistema riconosce un'impurità, questa viene separata tramite un soffio d'aria, molto simile a quando viene utilizzato il selezionatore a raggi X. Il legno di scarto, così liberato dalle impurità e quindi non trattato, può essere infine lavorato nel trucciolatore a coltelli, per essere trasformato in truccioli della massima qualità e quindi, nelle fasi successive della produzione, in pannelli dai massimi requisiti. Con Resource, Flyder ammette in perfetta sintonia la massima riutilizzabilità del legno di scarto e la ottimale qualità del prodotto. Pura competenza nel campo del riciclaggio per soluzioni naturalmente sostenibili con materiali a base di legno.